Ciao a tutti gli appassionati di sport e benvenuti su Top Sport News. Oggi vi porteremo direttamente nel mondo avvincente delle ultime notizie dalla Juventus. Siete pronti per un'immersione nel cuore pulsante delle novità calcistiche? Allacciate le cinture e preparatevi per un viaggio emozionante nel mondo bianconero. Prima di iniziare, vogliamo darvi un consiglio. Se non volete perdervi neanche un dettaglio delle notizie di trasferimenti, delle voci di mercato e delle curiosità quotidiane sulla Juventus e sulle altre squadre di Serie A, vi invitiamo a iscrivervi subito al nostro canale e ad attivare le notifiche. In questo modo rimarrete sempre aggiornati su tutto ciò che ruota attorno al mondo sportivo. Ma adesso passiamo alle novità che stanno tenendo con il fiato sospeso i tifosi bianconeri. La Juventus non si ferma mai e continua a cercare nuovi talenti per rafforzare la propria rosa. Non solo stelle affermate, ma anche giovani promesse che potrebbero presto brillare nel panorama calcistico. In questa finestra di trasferimento, il club di Torino è in fermento, focalizzato sia sui riflettori che sulle potenziali gemme nascoste, che potrebbero presto indossare la maglia bianconera a punto ma cosa sta accadendo dietro le quinte. Una data importante da segnare sul calendario è il prossimo gennaio, quando la Juventus ha messo gli occhi su Samuele Damiani, un talentuoso centrocampista attualmente al Palermo. Le voci che circolano suggeriscono che una trattativa avanzata sia imminente, con l'obiettivo di assicurare un prestito di Damiani per la prossima stagione. Questo giovane talento potrebbe portare una ventata di freschezza e contribuire in modo significativo al futuro. Della squadra appunto e chissà, le prestazioni eccezionali di Damiani potrebbero addirittura catturare l'attenzione di Max Allegri, l'allenatore della Juventus, aprendo le porte a un futuro luminoso per il giovane centrocampista appunto la Juventus ha sempre dimostrato la capacità di scoprire talenti dalle serie inferiori e questa attenzione alla prossima generazione essenziale per il successo. Continuo del club. Il futuro è pieno di potenziali e aspettative, con tifosi che non vedono l'ora di vedere brillare nuovi gioielli sotto i riflettori di Torino punto ma ora vogliamo sentire la vostra opinione. Cosa ne pensate dell'acquisto di Samuele Damiani da parte della Juventus? Lasciate un commento qui sotto e condividete con noi le vostre previsioni. E se volete rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie dalla Juventus e non perdere nemmeno un secondo di azione calcistica, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e ad attivare le notifiche. Continuate a seguirci su Top Sport News dove vi terremo costantemente aggiornati su tutte le sfide, le novità e le sorprese che il mondo sportivo ha da offrire. Ci vediamo presto!